E' come se fosse ancora estate, lo strapotere dell'anticiclone aflicano sull'Italia tiene lontano l'autunno. Temperature oltre i 30 gradi, mare calmo, assenza di vento, spiagge prese d'assalto e bar aperti. Eppure siamo alla fine del mese di ottobre. Queste immagini sono state girate domenica 23 a Stintino. La bellissima spiaggia della Pelosa, una delle più famose in Italia per i suoi colori mozzafiato e la sabbia bianchissima, è piena di gente. Tanti sasseresi, ma anche turisti, non hanno voluto rinunciare ad indossare ancora il costume e a un bagno in queste acque cristalline. Insomma, a trascorrere una bella giornata al mare senza alcun costo. Da qualche giorno, infatti, lo stabilimento è chiuso, i parcheggi sono gratuiti e l'ingresso è libero. Per contenere l'affollamento della spiaggia e migliorarne la qualità, dal 1 giugno al 30 settembre erano consentiti soltanto 1.500 bagnanti al giorno, negli orari di apertura dalle 8 alle 18 e un ticket di 3,50 euro. Secondo le previsioni, questo caldo fuoristagione dovrebbe proseguire anche per i prossimi giorni e i meteorologi non escludono che il mese di novembre possa far registrare temperature sopra la media.